noi vecino loro allan perché perché l'ho intitolata così proprio perché mi passava per la testa qualcosa detto dai giornalisti ad inizio anni ad inizio anno quando poi si era pompata la situazione in casa inter e appunto l'inter era descritta come l'anti juve sarebbe stata l'anti juve come 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 è possibile una cosa del genere come è possibile come po come umanamente pensi me e vabbè pensabile una stronzata del genere cioè questi hanno giocatori che veramente hanno una qualità assoluta e noi ci esaltiamo con la gara charrua per qualche gol una volta ogni morto di papa quando questi ci hanno giocatori veramente con gli attributi e si possono permettere milic milic arcadius in panchina che poi in realtà non se lo possono neanche tanto permettere in panchina perché secondo me l'ha sbagliata angelotti proprio non mettendolo titolare mo io non seguo tutte le notizie del napoli quindi non so se magari era faticato se non era in forno non so tante cose ma milic è un giocatore che deve giocare titolare un giocatore che specialmente se fai il 4 4 2 secondo me non puoi mettere due due punte come insignia e mertens per carità possono anche dialogare bene e arrivare verso la porta ma non hai la la concretezza non hai la ma neanche di concretezza ma la presenza di un attaccante forte e che abbia uno strapotere nell'aria uno come milic se ce l'hai devi farlo giocare francamente infatti appena entrato lui nel secondo tempo poi secondo me la fiorentina ha sentito ha sentito un po di divario ha sentito un po di sofferenza in più comunque è mancata la vittoria ma per per un nulla c'è da dire che il napoli crea 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 poi poi oggi ha sbagliato gol sicuramente anche per meriti di un lafon quel ragazzino la portiere eccezionale portiere c'è magari alterna delle piccole cappelle ma fa come un gatto come un gatto come ha detto caressa proprio incredibile fa dei balzi poi c'è da dire provato un mertens che oggi non lo buttava dentro forse nemmeno a porta vuote perché c'entrava cioè se c'era un se c'era un ostacolo lui lo centrava in pieno mertens praticamente proprio proprio inguardabile sotto porta e partita sotto tono sotto tono alla sua ripeto quello che mi ha strabiliato di più sempre ad anna è una vita che io parlo bene di questo giocatore ma cioè dappertutto magari ha perso pure un pallone poi nel final di partito ma ti ritorna dietro e te lo va a recuperare con una semplicità con una corsa con una cioè è pazzesco infatti angelotti o pagavano d'oro ma veramente d'oro se no angelotti non se ne sarebbe mai privato l'ha detto scherziamo alan è un giocatore di un altro livello proprio proprio un altro livello dappertutto dappertutto e noi ci saltiamo per vecino per vecino che si corre sì ma sai vecino poi alla fine cosa dicono gli interisti sì ma sai poi vecino però è uno di quelli che dà l'anima che corre dall'inizio alla fine ma sarà anche vero che corre ed è pagato per fallo in primis ma secondo se tu comunque hai due ferri da stiro al posto dei piedi ma di che parliamo ha fatto un lancio lungo alan magistrale a tutto a tutto punto e basta non contradditemi alan a tutto a tutto mi sono innamorato è quell'amore che nasce quando nasce un amore non ci fai nulla stravedi stravedi è puro amore punto basta basta arcadius milic che c'entra in questo momento milic si è divorato un gol pure sotto porta nell'ultima non era facile ha cercato di arrivarci scivolato non era così facile come l'ha descritta care che si è mangiato che si è mangiato il cavolo perché non era semplicissimo e quindi milic doveva giocare punto basta poi per parlare della fiorentina che comunque io devo sempre un po' elogiarlo al caro piolino caro piolino va elogiato perché comunque costruisce delle belle squadre la fiorentina ti gioca bene la difesa non era così irresistibile quindi il napoli qualcosa in più soprattutto il gol doveva comunque centrarlo però in fase di possesso la fiorentina gira a palla vedete ed è arrivata anche a creare qualche buon pericolo è assolutamente quindi devo dire che è stata una bella partita nonostante sia finita 0-0 è stata una partita ricca di emozioni non priva per cui bella gara adesso me ne vado perché tocca a noi e c'è Nanzia figlio mio mamma mia mamma mia oioio è dura è dura è dura ci vediamo dopo per il post partita amala sempre e comunque un abbraccio da Neschio se ancora non l'hai fatto lascia un like alla mia pagina facebook iscriviti al canale youtube e seguimi su instagram